Quando si ha un nonno che si chiama Jaroslav Pavlou e un papà che si chiama Martin Pavlou è di fare l'okeista. Si ha ragione, diciamo già il nonno ha giocato tanto occhi e poi il papà e così ci sono arrivato anch'io l'occhi e mi piace molto e voglio farlo per tanti anni ancora e dare il meglio e vediamo dove arrivo. Le prime pattinate quando? Quanti anni avevi? Avevo 4-5 anni, erano le prime pattinate e mi sono divertito molto. Il nonno no, ma il papà l'hai visto giocare? Il papà l'ho visto tanti anni e sono andato sempre con la mamma a Bolzano al pallo onda a vederli e mi sono divertito molto a vederlo come il pattinaggio, dicono che è lo stesso come il mio e per quello era molto divertente. Ti rivedi in lui? Per ora mi vedo molto nel suo pattinaggio, come ha detto lui prima, sicuramente mi viene a ridere, a vedere è una cosa del genere, proprio sono i geni che sono passati, è molto molto divertente questo. Il pattinaggio è lo stesso o anche qualcosa in più, anche il modo di stare in campo, il modo di affrontare l'avversario? Diciamo che il pattinaggio è la cosa che assomiglia tantissimo al papà, che pattino come lui, gambe larghe e diciamo è quello che ci mette insieme. Lui era velocissimo e tu? Dicono che sono veloce anch'io per quello, va bene così. Ruolo lo stesso, ala? Sono ala sinistra anch'io dai, ho iniziato come lui difensore e poi sono arrivato anche l'attaccante dai, mi piace molto di più. E in Germania, al Mannheim, come sei arrivato? Sono arrivato tramite questi tornei, alto A, DJ contro Baden-Württemberg e così e diciamo il papà ha preso contatto con l'allenatore e tramite lui, tramite questi tornei siamo arrivati a Mannheim. Lui ha la fortuna di avere adesso una società che è molto avanti nel suo programma, è un programma veramente molto bello, un sponsor molto importante, lavorano con i ragazzi 12 mesi all'anno, danno soprattutto la possibilità ai ragazzi di svilupparsi e questa è la cosa più importante, perché un ragazzo che va lì ha la possibilità, poi sta a lui decidere se vuole o se ha anche magari la capacità di andare avanti. Stai segnando tanto, sei fra i primi nella classifica marcatori, al di là dei gol avverti di essere una parte importante della tua squadra? Sì, diciamo che l'anno scorso avevo la fortuna di giocare con due giocatori molto forti, dove ho imparato molto molte cose e quest'anno diciamo si vede cosa ho imparato l'anno scorso, per quello si vede anche che faccio tanti gol e tanti assist. Orgoglioso della crescita del ragazzo? Sì, orgoglioso che è riuscito ad andare via di casa, a crescere e piano piano diventare grande. L'anno scorso al primo tentativo hai vinto il campionato? Ho vinto il campionato giocando in prima fila, in prima riga scusa, è andato molto bene, sì, era bellissimo perché diciamo questi due giocatori sono stati draftati poi in NHL e uno ha già fatto quattro amichevoli col Chicago, per quello è stato fantastico. A proposito di draft, tu sei del 94, fra un anno massimo due potresti essere draftato per le leghe giovanili nordamericane. Sì, è giusto, quest'anno è l'anno dei 93 per essere draftato, però diciamo c'è anche la possibilità di essere draftato con il 94, però si deve essere molto forte in Germania. I numeri dicono che tu sei fra i più forti, ecco ci pensi ogni tanto, ti poni come prossimo obiettivo, quello di provare anche un'esperienza in Nord America? Diciamo a tutti i costi, lo voglio provare, quest'anno darò ancora il mio meglio anche dopo avermi infortunato alla spalla, provo a dare il massimo anche recuperando forse nei playoff e vediamo come va il prossimo anno poi. L'hockey può diventare un lavoro per te? Diciamo lo faccio come lavoro per divertirmi, perché l'hockey lo faccio perché mi diverto tantissimo e per quello diciamo un lavoro però dove mi diverto. Via di casa a 15 anni, è stato pesante? All'inizio era molto pesante perché ero via, diciamo il primo mese da solo, senza mamma, papà, far tutto da solo, organizzarsi, era molto difficile, però pian pianino adesso è tutto a posto, è già un anno e mezzo ormai per quello, so quello che devo fare tutto. Tu sei stato un punto di riferimento dell'hockey italiano per più di 20 anni, tuo figlio potrebbe anche non giocare mai in Italia. Ma questo non lo sappiamo, quello che ci risponde al futuro non lo possiamo sapere, potrebbe darsi, però credo che prima o poi si torna sempre a casa, magari speriamo più tardi possibile, però tutto è possibile.